Il sinodo credo che sia una grande occasione da sfruttare perché abbiamo bisogno di fare revisione delle nostre pratiche pastorali e abbiamo bisogno di metterci in serio ascolto dei giovani e quindi ci piace l'idea che rispondere al questionario sia il primo passo di un cammino che però ci accompagnerà nel prossimo anno e mezzo di vita. Aveva ragione Benedetto XVI quando nella lettera alla città, alla diocese di Roma sull'educazione di nove anni fa, scriveva che non nascono generazioni peggiori di altre ma ogni generazione deve riconquistare la sfida dell'educazione e quindi i giovani hanno tutte le potenzialità che avevano una volta e se non riescono a esprimerle tutte, se ci sono tanti momenti di fragilità è perché noi adulti abbiamo creato per loro questo mondo così fragile. La chiesa che si interroga mettendo i giovani al centro è una chiesa fertile e in realtà è difficilissimo offrire risposte definitive, di definitivo noi possiamo offrire la buona notizia di un dio che è morto e che è risorto e questo è il messaggio più autentico, più credibile, più sconvolgente attraverso le forme e i linguaggi che sono adesso quelli della comunicazione giovanile che sono diversi per esempio rispetto a quelli di vent'anni fa e la chiesa che si interroga al cospetto dei giovani credo che sia compiendo un atto profondo di coraggio e di ricerca di sapienza. Grandi speranze quali sono sicuramente intorno alla figura degli educatori che anche nel nostro giro che stiamo facendo nei vicariati abbiamo compreso abbia bisogno davvero di essere accompagnato e sostenuto nel suo cammino di formazione e di accompagnamento ai ragazzi. Poi l'altro ambito bellissimo credo che sia tutta la dimensione del sinodo dei giovani, in questi giorni verranno anche lanciate qualche proposta attuativa di questo tempo che sarà un tempo d'ascolto. No, i temi sono da cercare nel senso che noi alla luce del concilio, e dei documenti della chiesa italiana alla luce della situazione, quindi della lettura della realtà, vorremmo andare a individuare due cose. Da una parte che cosa facciamo noi comunità adulta in favore dei giovani e questa è una domanda che non riguarda i giovani ma riguarda gli adulti, cioè come vogliamo comunicare e trasmettere la fede, questa è la grande domanda. Dall'altra parte abbiamo bisogno di capire dall'ascolto dei giovani quali sono le cose che oggi li appassionano, li entusiasmano, li mettono nel cuore della vita. Queste e altre indagini evidenziano sostanzialmente una grande positività soprattutto dei giovani sacerdoti. Da un lato i genitori ritengono che i giovani sacerdoti siano in grado di interagire con facilità con i loro figli, dall'altro si riconosce che nel mondo moderno essere sacerdote giovane oggi rappresenta una missione vera. È una scelta radicale, una scelta molto forte e quindi c'è grande rispetto e grande attenzione. Diverso però il tema della delega educativa che non sempre è così presente nei genitori. In altri termini l'oratorio rappresenta un luogo protetto, sicuramente molto importante e stimolante per i propri figli, però i genitori moderni tendono a essere un pochino meno disponibili a condividere con altre figure di educatore il processo educativo dei loro figli. Quindi sì la delega accuditiva, un po' meno la delega educativa. L'atteggiamento dell'educatore deve prestare particolare attenzione alla dimensione vocazionale e quindi alla creazione delle condizioni per l'esercizio della libertà, per l'esercizio di una costruzione di una comunità, di una missione nella comunità e per dare anche serenità. Tutti questi sono un po' i valori di riferimento e ciò su cui stiamo riflettendo. Non insegniamo l'arte di amare se non stiamo vicini ai poveri e se non aiutiamo i nostri ragazzi a diventare amici dei poveri, mostrando che cambiare il mondo è possibile, che inizia dal poco, sempre. Le istruzioni per l'uso ci fanno spaventare che uno deve cominciare a avere le risposte. Inizia dal poco, vivendo però incontri veri, quell'avventura sempre imprevista, per fortuna, che è l'amore.